un saluto a tutti ragazzi benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e dal mio Michelangelo mio gatto tigrato meraviglioso che ha compiuto tre anni da poco guardate che meraviglia il mio amore Michelangelo il nuovo appuntamento è con la For Gran Torino di Starsky e Acce questo è il nuovo invio ricevuto ecco qui ricordo che è un modello in scala 1 a 8 120 le uscite previste per il completamento di questo modello e le uscite contenute in questo ultimo invio sono dalla numero 79 alla numero 81 e sono quindi tre uscite intanto ringrazio tutte le persone che mi visualizzano grazie ragazzi e grazie anche per le condivisioni dei miei video sono state quasi 30 le condivisioni e questo sicuramente mi aiuta a crescere ancora di più e quindi volutamente e doverosamente vi ringrazio alle persone che mi guardano ma non si iscrivono sempre che ne abbiano piacere dico loro questo iscrivetevi al canale attivate la campanella sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato date anche un'occhiata alla playlist dove potete trovare altri modelli e non solo di auto infine se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello mi contatti privatamente grazie la macchina come ho già detto in scala 1 a 8 all'edizione a scette qui siamo ancora nei prezzi contenuti anche se le uscite non sono poche perché sono 120 sto guardando guardando per confermarvelo abbiate pazienza ma sto facendo diverse collezioni e ci sono quelle da 100 uscite 110 uscite 120 uscite eccole qua 120 uscite però siamo a 11 euro e 99 ecco come ho detto anche nei negli altri unboxing che hanno preceduto questo ma non ripeterò tutto quello che ho detto perché poi mi sono lasciato un po andare volutamente perché ritengo che sia esagerato per quanto il modello sia poi grande fare 120 130 uscite ecco la cosa giusta per dare possibilità a tutti noi di continuare ad esserci era quello di mantenere le 100 uscite perché aumentare di un euro un fascicolo perché c'è l'aumento delle materie prime sono d'accordo sono passati diversi anni sono d'accordo però considerando 100 uscite di una collezione i primi due numeri costano sempre di meno gli altri restanti 98 numeri a 1 euro sono 98 euro in più non sono poche però se poi mi mettete anche 20 uscite in più parlo delle altre collezioni questa purtroppo è uscita con 120 questo mi dispiace però se mi mettete altre 20 uscite in più cosa succede e succede che se costa 11 euro sono 220 euro in più più 98 euro di aumento nei 98 numeri di cui vi parlavo prima e quindi sono 220 più 98 sono 318 euro non sono pochi 318 euro in più stiamo veramente parlando di un 30 per cento in più secondo me è sbagliato è sbagliato aumentare il costo di mettere le prime è una cosa però mettere 20 uscite in più è un'altra comunque questa è la quinta parte del montaggio della portiera sinistra ecco qui sono tutti pezzi in plastica poi andrò nello specifico a dirvi tutto quando farò il montaggio questa è una ghiera dentata aspettate che così però non vedo nulla e non mi piace fare vedere questa maniera una serie di viti da avvitare nella plastica eccola qui up mi raccomando non usate mai nessun tipo di lubrificante per creare i filetti nella plastica vi ho già spiegato più volte le motivazioni qui abbiamo questa parte che è il braccio di leva dell'alzacristallo sinistro cremagliera ingranaggio inferiore braccio a compasso eccolo qui quindi non ha la leva dell'alzacristallo e lo trovo veramente molto 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 brutto questo a ecco abbiamo una leva qua sotto si sarà certamente funzionale carino però non mi dovevate fare una cosa del genere ma non potevate non ha la maniglia questa per tirarla su la reale la for gran torino non ha la maniglia stiamo parlando di una macchina degli anni 60 60 70 voglio dire possibile che mi avete fatto una ghiera qua sotto non la trovo bella al di la della funzionalità io non la trovo bella come cosa va bene questi mettiamoli via passiamo subito all'altro fascicolo numero 80 guardate questo fascicolo come ridotto e sono già fortunato che non è danneggiato con fuori quindi buchi sono già fortunato tra l'altro se non ricordo male il primo è in omaggio ma il secondo è a pagamento 7 euro se non sbaglio che anche questo lo ritengo sbagliato perché tu non mi devi far pagare il raccoglitore se faccio l'abbonamento e in più se me lo fai pagare questi mi devono arrivare perfetti come un vetro devono arrivare spendi l'imballo quello che vuoi te l'imballaggio ma non me li far arrivare così non me li far arrivare rotti cosa mi serve un raccoglitore su dei fascicoli rotti non mi serve fascicoli rotti li butto nell'immondizia i fascicoli rotti e bucati cosa ne faccio è ovvio non li butto nell'immondizia è un modo di dire però è una questione totalmente di rispetto che qua manca qui abbiamo il montaggio della portiera sinistra ed è la sesta parte le fasi di montaggio sembrano molto chiare mi piace questo cambiamento di colore per evidenziare i pezzi su cui andiamo a lavorare quattro serie di viti una da avvitare nella plastica eccola qui e tre da avvitare nel metallo questa è la leva di regolazione dello specchietto retrovisore sinistro plastica cromata il mio Michelangelo sta partendo per le braccia di morfeo questa è la striscia adesiva di protezione ne abbiamo tre sono già pretagliate questa è la guarnizione del finestrino in realtà queste forse se non sbaglio tecnicamente si chiamano bordure ma non sono sicuro e poi abbiamo il finestrino e che finestrino e devo dirvi che questa plastica mi piace molto è veramente spessa guardate sono soddisfatto di questa plastica me l'aspettavo più sottile invece devo dire che mi piace anche questa finitura che hanno fatto qua stondata che è come i vetri veri bravi 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 ascette bravissimi quindi questo possiamo chiuderlo adesso procedo all'apertura del numero 81 l'ultimo di questo nuovo invio guardate il fascicolo in che stato è ragazzi ditemi voi ditemi voi ma non li fate i fascicoli fate le istruzioni uno le guarda le legge e le butta via non li fate i fascicoli così non li fate guardate guardate in che stato è questo fascicolo guardate ma come si fa ma come si fa dai ragazzi non mi interessa di questo mi dispiace sarò antipatico adesso non mi interessa neanche questa l'assistenza se bisogna di montare io ho bisogno di rispetto anche dalle piccole cose guardate questo fascicolo cosa faccio io adesso dovrei dovrei chiamare ascette sono sicuro che me lo rispedirebbero ma come mi arriva me lo portano loro a mano se questo è il modo di lavorare mi arriverà se sono fortunato a posto se no magari anche peggio ecco qui numero 81 questo è quasi anche bucato qua quasi numero 81 prima fase del montaggio della portiera destra adesso sono curioso di vedere che tutto sia perfetto perché sapete che quando si ha a che fare con questi modelli dove controllano le qualità manca e non solo con centauri a su tutti anche se poi il pezzo ti viene sostituito è facile riceverlo fallato scusate sto guardando questo pezzo che io sinceramente lo chiedo ne chiedo un altro non lo so se riesco a farvelo vedere ma qui addirittura si vede il metallo sotto ma dai ma qui che che razza di modo di verniciare questo qui il filetto è sbagliato qui manca un po di nero qui addirittura la parte nera che doveva coprire adesso vi faccio vedere faccio un ingrandimento doveva coprire il filetto esterno bianco doveva vedersi solo il nero si vede il bianco ma quello che peggio è qua non so se riuscirò a farvelo vedere ma questo sicuramente chiedo subito nella speranza che non arrivi un altro pezzo così allora qui è il primo errore guardate questo filetto qua vedete si vede addirittura il taglio sotto e sopra il bianco e guardate adesso la la parte rossa come è scura questo è il metallo sotto la vernice è praticamente lì c'è un film sottilissimo che fa vedere la trasparenza del metallo sotto e c'è su tutta la linea qua su tutta rendetevi conto qui vabbè qui manca un pezzo di filetto ma quello potevo riprodurre non è questo problema ma questo cosa faccio qua mi metto a riverniciare il rosso me lo tengo così ma anche no e noi i soldi miei non hanno difetti possono arrivano belli belli guardate cerco di farvelo vedere per farvi vedere qui non si tratta di essere pignoli io non lo so se voi avete ricevuto un pezzo come questo guardate che roba e qui ci dovevano dare un'altra mano di vernice invece hanno pensato bene di non farlo qua guardate qua cosa c'è comunque penso che sia riuscito a farvelo vedere guardate però anche questo probabilmente riuscivo a toglierlo basta usare una carta 2000 saperla usare perché devi metterci un tampone molto rigido perfettamente in piano sotto e piccolissimo che di lavorare solo su questo punto però qual è la realtà che avendo un film sottilissimo di vernice rossa lo vai a consumare e viene subito il colore sotto ecco il problema qual è non ho assolutamente e mi auguro che arrivi mi auguro che il pezzo arrivi non fallato come questo qua abbiamo un altro di fa anche qui guardate ma non so se si vede no non si si vede qua si vedono qua ci sono addirittura è stato verniciato con due due probabilmente due ricci di polvere guardate sono stati annegati sotto la vernice li vedete ecco ma siamo impazziti ragazzi no no poi abbiamo la maniglia con il nottolino dentro eccolo qui è una serie di viti api bene io direi che lo chiudo qua vi ringrazio del vostro tempo e fate anche voi qualcosa ragazzi scrivete delle email cioè lamentatevi perché le collezioni non devono non dovrebbero superare diciamo le 100 uscite visto che gli aumenti li hanno già fatti quasi tutti e quelli che non ne hanno fatti li faranno e ripeto ci sta però 20 uscite in più sono un patrimonio in più che dobbiamo tirare fuori non è più l'aumento del costo delle materie prime quella è un'altra cosa e poi anche aziende ha un po di cura non è una cosa da sottovalutare non potete fare quello che volete con i soldi nostri non potete fare quello che volete se me lo fate arrivare che me lo regalate ok me l'avete regalato non l'ho pagato ma io l'ho pagato o l'ho pagato perché devo ricevere questo mi dà troppo fastidio questo modo di lavorare il rispettoso mi dà veramente fastidio quando si sceglie la quantità invece che la qualità però questo non paga e alla fine ragazzi ve lo dico la fine non paga perché la quantità non è fatta per le persone che sanno la differenza tra ciò che è buono e ciò che non è buono quello che ti appaga visivamente ma in realtà qualitativamente non è così quindi ecco non siamo e questo è rivolto a tutti non solo a scelte non siamo un po po di testi come magari ci crede il governo adesso direte voi ma cosa c'entra il governo e beh qua mi sembra che sta diventando un po un luogo comune no e la gente fa un po quello che vuole con noi da tutte le parti questo non ci non non mi piace però purtroppo visto che forse sono sarò l'unico a dirlo non cambieremo mai niente continuiamo così purtroppo e ciao a tutti da michele il mio amore michelangelo un abbraccio a voi un saluto e un saluto a tutti i vostri cari più cari ci vediamo nei prossimi video dove io andrò a fare forse un semi montaggio su questa portiera o probabilmente neanche non la farò forse neanche non lo so vedrò perché poi chiederò un riordino e sarò lì aspettare quando mi arriverà che magari sarà peggio di questa ma vi farò il video e se arriverà peggio di questa oppure come questa vi farò un video non vi preoccupate grazie ragazzi sempre del vostro tempo grazie veramente a tutti delle condivisioni che mi aiutano tanto e delle iscrizioni grazie a tutti ciao